Esordio con i botti per il neotecnico Tortelli sulla panchina del Città Nuova Interpiana. I reggini stendono la Cireale con un 1-2 micidiale insaccato nel primo tempo, autografato Frittitta. Due golle in 20 minuti per il bomber di riserva e siciliani al tappeto, nonostante l'incornata vincente di Fascetto che sul finire del primo tempo sembrava avesse riaperto il match Speranza Vana per Riccobono e compagni che riprendono il traghetto nel segno dello zero in tasca e in classifica. Si è perso una partita che forse per quello che si è vista in campo la Cireale forse meritava qualcosina in più, niente da togliere comunque all'Interpiana perché ha disputato una gara a tutta cuore e grinta, ha segnato due gol nei primi minuti, ha sorpreso la Cireale e ha saputo condurre in porto il risultato, quindi merito a questi ragazzi. Tre invece li mettono in cassaforte i calabri, ora a quota 4 in graduatoria generale. C'è tantissimo da lavorare però insomma, già un risultato positivo porta a svolgere il lavoro nel futuro con un attimino un po' più di concentrazione e soprattutto man mano con ottimismo e lasceremo da parte uno alla volta i tanti problemi che abbiamo ancora da risolvere.